Amici e amiche dell'Arechico, eccoci qui per un nuovo prepartita, siamo a poche ore dal derby contro l'Andrea Costa Imola e per parlarne abbiamo scelto uno degli ex di turno, ovvero Nicola Calabrese. Ciao Nicola! Ciao a tutti! Ecco Nicola, tu sei un ex Andrea Costa, hai giocato per molti anni in quella società, ma conosci anche molta gente che affronteremo domani, con molte persone che troveremo domani al Palacattani, tu hai giocato, raccontaci un po' la tua avventura imolese. Sì, allora, io a Imola sono approdato tanti anni fa, addirittura praticamente all'inizio dell'Under 16, è una realtà che mi è rimasta nel cuore, società, tifosi, persone che tuttora sento e per me è stato un passo fondamentale per la mia breve carriera, finora. Esatto, ritroverò giocatori con cui ho giocato insieme, come per esempio Fulz, Alberti, Franzoni, Zanetti, anche se non ho giocato con lui a Imola, ho giocato con lui in altre competizioni, con altre squadre, però sì, diciamo che lo conosco bene con l'ambiente. E comunque hai debuttato anche in A2, l'anno proprio prima di venire a Radio Solaris. Esattamente, esattamente. Ecco, domenica ci aspetta appunto una bella partita, Imola, in questo momento qui, un po', diciamo, chiamiamola crisi di risultati, ha qualche infortunato, però è sempre riuscita a giocarsela fino all'ultimo, sia a Rimini, sia con Omenia, che partita ti aspetti e cosa pensi dell'Andrea Costa attuale? Allora, Imola viene da una partita persa contro Omenia, al supplementare, quindi sicuramente loro avranno un po' il dente avvelenato. Noi dovremmo essere bravi a stare concentrati dal primo minuto per 40 minuti, se non di più, speriamo di no. Loro individualmente hanno alcuni giocatori che sono veramente bravi, conoscono la categoria, come appunto Fulz, Preti, Corcelli, dovremmo essere bravi, diciamo, a limitarli. Ok, anche perché poi tu giustamente parlavi di motivazioni, beh, anche voi ne avete, perché è l'unica partita ad oggi che avete perso, per cui... ci vogliamo riscattare. Ecco, parlandone ad un girone esatto dopo, quella sconfitta lì vi ha forse fatto un po' bene, magari per far capire alcune cose? Assolutamente, assolutamente, le sconfitte ci stanno in questo sport, si devono accettare, però bisogna sempre migliorare, quindi non voglio dare, diciamo, sentenze prima della fine della partita, però noi sicuramente faremo del nostro meglio e speriamo di poterla portare a casa. Ecco, parlando invece di te, Domenica, diciamo che la tua foto della partita ad Alba è stata quella stoppata all'ultimo secondo del primo quarto, che è stata ripresa anche da diverse top five, proprio per il gesto atletico, che fa capire di una tua annata in cui stai davvero giocando bene, ti ha molto responsabilizzato, Serra, come la vedi questa stagione? Sì, sono molto contento da questo punto di vista, perché diciamo che mi sento veramente un giocatore che comunque c'è in un gruppo, cioè si fa sentire, anche se comunque sono molto giovane e sicuramente ho ancora cose che comunque devo ancora imparare e mi sento, diciamo, un tassello all'interno della squadra che può dare sempre qualcosa di più. Sto lavorando duramente in palestra per poter, diciamo, riuscire a ritagliarmi sempre un po' di spazio in più durante la partita. Ecco, quello che mi stupisce quest'anno, cioè stupisce positivo ovviamente della tua crescita, è che riesci sempre a dare tanto nei minuti che giochi, cioè nel senso magari entri in campo per pochi minuti, poi esci, poi rientri, ma riesci sempre a trovare subito, a entrare subito nella partita. Mi vengono in mente delle triple che riesci a mettere quasi a freddo. Hai fatto un bel salto come mentalità. Sicuramente la stagione di anno scorso mi ha, diciamo, mi ha portato ad essere quello che magari posso, che sto facendo ora, quindi ha, cioè, c'è dovuto, secondo me, ci doveva essere quel, quel magari momento, tra virgolette, negativo che c'è stato, che c'è stato anno scorso per poter, esatto, fare bene nelle stagioni dopo, come sta succedendo ora. Sono molto contento, lavoro duramente tutti i giorni in palestra per poter dare un contributo alla squadra e per questo sono molto, molto felice. Perfetto, Nicola. Ricordiamo allora Recchico Andrea Costa Imola domani ore 18 al Palacattani, in diretta su LNP Pass, con anche aggiornamenti sull'altra pagina Facebook e dopo partita, subito, in tempo praticamente reale, il post partita con i protagonisti. Nicola, grazie della chiacchierata e in bocca al lupo per domani. Grazie, credi. Ciao.